Confartigianato, CNA, Associazione degli Industriali, Confapi e Confesercenti di Arezzo scendono in campo contro il rischio di un aumento del costo dell'acqua che potrebbe rivelarsi davvero insostenibile per le imprese e le famiglie. Lo fanno con una lettera aperta che è stata spedita ai sindaci dei comuni della provincia di Arezzo. Tutto parte dal fatto, si legge, che l'incremento del costo dell'acqua previsto nei quattro anni che vanno fino al 2019 arriva a circa il 26%, il 6,5% ogni anno fino appunto al 2019. Un'enormità, scrivono i rappresentanti delle imprese aretine, se solo si considera che in tante città del nord, del centro e del sud Italia il costo è molto inferiore. Secondo i firmatali, il sistema che gestisce il servizio idrico e quello che lo regola non considera nelle decisioni il difficile contesto economico in cui operano imprese e famiglie. Si chiede quindi che la decisione di aumentare le tariffe sia cambiata nella riunione dell'ambito regionale, incontro programmato per il prossimo 22 di luglio e di cui faranno parte molti sindaci della provincia aretina.